Loro sono i The Sun, il gruppo di punta del Christian Rock italiano, un movimento musicale nato negli Stati Uniti, l'espressione di una forma di musica rock suonata da gruppi apertamente cristiani e che può avere tante sfaccettature, dal Christian Metal al Christian Punk fino al gospel e molti altri generi paralleli a quelli più dichiaratamente laici. Sei album all'attivo originari di Vicenza e The Sun staranno in concerto domani sera alle 21.30 nel punto verde di Piateda, un luogo noto a tutti per un'altra Kermes, punto di riferimento per il rock qui in Valtellina, il Rock and Rhodes. Questo è un progetto nato tramite Don Guido con il supporto nostro di amministratori e il supporto logistico della Proloco che è in gestione della struttura del punto verde e è un modo per creare un evento musicale rivolto ai giovani in cui i componenti di questo gruppo porteranno testimonianza del loro percorso di vita avuto da quando hanno cominciato a suonare in band dagli primi anni 90 fino ad oggi. Un gruppo noto ben oltre i confini nazionali, quello dei The Sun, che possono annoverare nella loro carriera tournei in lungo e in largo per tutto il globo e che li hanno visti sul palco assieme a formazioni di spicco come The Cure, Offspring, Misfits e poi Muse, NoFX, The Vandals e Deep Purple. Che dire, il parroco Don Guido per i propri giovani ha scelto davvero bene. La data valtellinese procede di poco, un tour che li vedrà in Spagna e in Portogallo. La comunità pastorale in collaborazione con il comune e la prolocco di Piateda e la cooperativa lotta all'emarginazione hanno pensato a questo evento musicale per coinvolgere i ragazzi e i giovani per aiutarli a gustare la bellezza e la fatica di lavorare assieme per crescere come comunità cristiana e civile. E allora, se avete voglia di una serata di buona musica rock adatta a tutti, l'appuntamento è per domani a Piateda in compagnia dei The Sun. L'ingresso è libero, è aperto a tutti, l'area è accessibile già dalle ore 19, ci sarà un servizio di bar ristoro e ovviamente sono tutti benvenuti, piccoli grandi famiglie, eccetera.